signora mi raccoglie per favore ma lei chi è sono la cacca di un cane grosso ma molto grosso non mi raccoglie nessuno lo so perché sono dei gran maleducati cosa sei fatto mi pestano mi gridano contro poi io porto fortuna e loro mi gridano contro il sacchetto piccolo mi servirebbe uno più grosso io qua due mesi ci metto a biodegradarmi grossa o piccola dovete raccoglierla